Ora c'è un bravo che forse non tutti conoscono, è un po' Fiumini Chiariciano è più un'artista che è venuto anche nel 2017, se non sbaglio, Jetsme è un bassista e cantautore, cantante adorato tanto alle Kiki e questo è Danci, Jetsme è un po' Fiumini Cappellate Cappellate Grazie a tutti 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 Grazie a tutti